ciao a tutti sono tornata con un altro video molte di voi mi chiedono sempre come posso creare delle scatoline e non avendo la big shot non avendo il plotter e insomma creandole a mano creandola in mano si possono fare io ho stampato un cartamodello di una classica scatolina a forma di cubo però giustamente mi dicono ma qui ci sono le linee signore faccio in mano insomma vengono un po storte fatico a piegarle eccetera io ho per voi la soluzione questa qui si chiama scoring board praticamente permette di fare delle linee nei punti dove devono essere fatte quindi notazione danno questa specie di coltellino con due punti una più sottile e una più arrotondata seguendo le linee guida che ci sono qui sopra quindi vi faccio vedere subito come funziona intanto ritagliamo le nostre scatolina non Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.